Hai pure flash out Ma che cazzo di... Basta Non ho giocato Torni per sta merda Guarda c'è tutti che mi seguo Oh guarda Sembra una gag Ogni volta che una Ezreal in squadra Finisce così Ti giuro hai più forzi di me Non odiarli Guarda È una merda Ma la cosa del secolo è che non posso grabbarli Se grabbo perdo Ti odio Ma la wave La wave La wave Madre di dio Piglia un minion Che gli devo scrivere in chat? Farm minions? Che gli devo scrivere? Non lo posso guardare Mi crea nervoso È inguardabile 30.000 a 9 minuti Cazzo Con Ezreal È terribile Lo capisci perché? È sbagliato in tutto ciò che fa Cioè Ezreal è una cosa importante Cioè solo come clicca i minion Non ammanestà lì con venti di mana Che squallido Mr. Minion Tutti Pure quello Che è terribile È terribile Io non sono mai cattivo Ma loro mi danno fastidio È palesemente bustato Ho fillato qualcosa di strano È insopportabile per me Ti giuro Non recito È insopportabile Ti giuro Sono Sono comprensivo Non flammo mai Ma lo vedo E mi sento male 50.000 Da 14 minuti Non riesco a ignorarlo Guarda come clicca Lo vedi che clicca Come una ragazzina Di 13 anni Anche come cammina Mi infastidisce Vorrei vederti con qualcosa di diverso Sì Che palle carlo Allora se non ti piace battere Non la giochi nemmeno a P Gioca la colliude in secco Con il dabba Da un primo item Io col piccario Da supporto A platino 4 Bustata Vai via Un early game Della stanza Non dico morta Ma perdeva Metà HP Come Guarda con la cu Lo so cu Cs Pó Pó Mi 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 per l'onda divertente, per l'onda di spazzano Penso che sei stupida che ti chiesi a un'onda Boom, bitch Fa muore qua Io sono la tappa Non mi stupido Va, sono più stupido Secondo me ci sta Se muore pure lui ci sta al mille per mille Madonna che tanto Fuori Se non muore Questo Fa muore Ale non ti merita questo Allora, radiazione cosmica Io già oggi mi hai fatto girare le palle Non farlo pure la sera Quanto è vero il signorino Ragazzi, ne vogliamo fare due più Paffa Ultimo abbonamento dell'anno ci si vede ad ottobre patoto mio minore di 3 Posso ci si vede ad ottobre? Ma che bordi Sì, ad ottobre papi Ma farò 10.000 euro in meno al mese cazzo Non ti comprerò più le borse di Chanel Che ci si vede ad ottobre che trovo? Non ti compterò più le borse di Chanel Quanto 성 Pickle Io non ti compterò più le borse di Chanel faccio l'elancio che non posso morire dovresti dare degli incentivi ai tuoi abbonati dovresti fare degli regalieri voglio ammazzare i tuoi abbonati ti dobbiamo ammazzare non muoio bella la metto su questo giro cambio di danno agli danno e l'ho avuta l'ultimo secondo forse ho svegliato vinta la partita fs ma non c'è non c'è grazie 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 finalmente qualcuno che dice che sono bravo grazie santa suona discord no thanks grazie